Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale oristanese. In previsione delle prossime elezioni regionali, oggi il ministro degli interni Matteo Salvini ha fatto tappa in Sardegna. Fra le città visitate dal vicepremier c'è stata anche Oristano. Una grande folla era presente per sentire quello che aveva da dire. Sentiamo. Una folla di oltre 5.000 persone ha voluto assistere questo pomeriggio a Oristano al comizio del segretario della Lega e ministro dell'interno Matteo Salvini. Comizio che apre la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 24 febbraio. Il leader della Lega è entrato subito nei temi caldi che hanno condizionato i primi sette mesi del governo giallo-verde, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Stop dell'immigrazione clandestina, abolizione della legge Fornero e legittima difesa. Alcuni degli argomenti che Salvini ha presentato ad una piazza a Stracolma, come non si vedeva da tanto. Sui temi di politica regionale il ministro dell'interno ha criticato senza mezzi termini la politica della giunta Pigliaru. Troppi tagli alla sanità, ha detto tra l'altro. Non è possibile che un assessore pensi di voler combattere lo spopolamento dei paesi sardi, offrendo aiuto agli immigrati senza preoccuparsi di intervenire sulla fuga dei sardi all'estero perché senza lavoro. La Sardegna ha una sua cultura e una sua lingua, entrambe vanno salvaguardate e difese, magari con un governatore regionale come Cristian Solinas, candidato presidente, che sappia portare la politica del Consiglio regionale e della giunta fuori dai palazzi e in mezzo alla gente. Lo slogan che è stato ripetuto più volte è «prima i sardi, poi gli stranieri», slogan che si rifà a quello nazionale, prima gli italiani. Stoccata anche al modo di condurre la politica europea, troppi vincoli e troppi divieti, anche su cose elementari. Tutto ciò determina un impoverimento dell'economia sarda, che si vede costretta a importare prodotti stranieri, laddove è in grado di produrre abbondantemente per il suo fabbisogno. La fine del comizio, occasione nella quale è stata presentata anche la candidata locale per la Lega Nord, Annalisa Mele, è stato un vero e proprio tripudio per Matteo Salvini, che per circa un'ora si è concesso ai molti cittadini presenti, che non hanno voluto perdere l'occasione per fare un selfie con lui. Parliamo ancora di politica. Sono 40 i sindaci pronti a sostenere Massimo Zedda nella corsa a presidente della regione. Sentiamo. Sono una quarantina i sindaci dell'Oristanese che hanno deciso di scendere in campo a sostegno di Massimo Zedda nella corsa a presidente della regione, mentre secondo l'elenco pubblicato da Sardinian Post a livello regionale le file si ingrossano superando i 130 tutti fulminati sulla via di Damasco. In prima linea i sindaci sempre in festa dove si distinguono quelli di Baradili, Sorradile e Neoneli, specialisti nella promozione di Sagre dei Venti. Poi ci sono quelli di Albagiara, Ales, Assolo, Borroneddu, Bosa, Busacchi, Fordongianus, Ghilarza, Gonosconina, Gonostramazza, Laconi, Mogoro, Nuracchi, Pau, Sagama, San Veromillis, Santulusurgio, Seneghe, Senes, Senariolo, Siamanna, Solarussa, Ulatirso, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde e Zerfalio. Recente è l'aggiunta del sindaco di Siamaggiore Anita Pili, che ha saltato il fosso dopo settimane di indecisione, e quella del sindaco di Milis Sergio Vacca. Sarà una campagna elettorale ed un risultato destinati a ridisegnare la geografia politica dell'isola e non solo per la scossa provocata dal risultato delle elezioni del 4 marzo 2018. A distanza di un anno, i mutamenti più significativi si avvertono solo nei partiti e movimenti minori, mentre è un disperato serrare le fila nel centro-sinistra e nel Partito Democratico, che devono assolutamente recuperare le posizioni perdute. Per questo il candidato governatore Massimo Zedda, in un convegno a Nuoro, a nome nel ricordo di Mario Melis, ex presidente sardista della regione sarda, ha aperto alla base di quel partito per catturarne le fronde del dissenso, che fa seguito all'alleanza che i quattro mori hanno stretto con la Lega, mentre fanno gola gli oltre 75.000 voti attribuiti nel 2014 a Michela Murgia, alla quale Massimo Zedda tende la mano. Ai nastri di partenza sono oltre 30 le sigre in lizza, superando le 26 schierate nel 2014, e lunedì si chiude con il deposito delle liste e quindi con i nomi dei candidati. L'Ufficio elettorale del Comune di Oristano comunica che gli elettori affetti da gravi infermità possono esprimere il loro voto a domicilio. Per poter usufruire di questa opportunità è necessario far pervenire al Sindaco del Comune una richiesta dell'interessato attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria. È possibile presentare l'istanza a partire da oggi, fino a lunedì 4 febbraio. Passiamo alla cronaca. La Procura Distrettuale Antimafia di Cagliari ha avviato le indagini sulla vicenda legata al favoreggiamento all'immigrazione, che ha portato all'arresto della consulente oristanese di Esmeralda Trogu e del mediatore culturale di origine indiana. Gli investigatori dovranno verificare l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere che avrebbe agito nell'isola per favorire il rilascio dei permessi di soggiorno agli immigrati extracomunitari previo un pagamento di ingenti somme. Crescono invece i furti nella città di Eleonora. Sentiamo. Prosegue l'ondata di scippi nel capoluogo, dove questa volta sempre nel popoloso quartiere di Torangius. Secondo quanto si è appreso, i ladri hanno tentato di introdursi in una delle villette in via Verga, non lontano dalla chiesa di San Paolo. I proprietari dell'abitazione si erano assentati da circa mezz'ora, quando loro rientro, intorno alle ore 18, li hanno sorpresi mentre cercavano di spaccare il vetro della finestra di un bagno. Alle loro urla, i scippatori sono fuggiti via, verso la campagna che costeggia le villette, attraverso il cancelletto a cui avevano già divelto la serratura. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della questura di Oristano. Il triste episodio è avvenuto lunedì 14 gennaio, ed è l'ultimo di una numerosa sequenza di scippi che hanno interessato le vie Verga e Pirandello, i cui abitanti chiedono da tempo al Comune l'installazione di un sistema con telecamere di videosorveglianza. Il Comune di Oristano ricorda ai beneficiari di carta REI che per poter fruire del beneficio economico e al fine di evitare la sospensione dello stesso occorre essere sempre in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità. Pertanto, coloro che usufruiscono della misura REI dovranno aggiornare la dichiarazione sostitutiva unica ISEE 2019 entro il mese di febbraio. Cambiamo argomento. La città dei bambini, un nuovo ed interessante progetto del Comune di Santa Giusta. Sentiamo. L'eccesso di velocità e la poca prudenza sono le principali cause degli incidenti stradali, comportamenti errati che rappresentano un grave pericolo e una mancanza di rispetto per noi stessi e per gli altri. Guidare il stato di ebrezza quando si è stancho o mentre si usa il cellulare dimostra una scassa conoscenza delle norme di sicurezza. Per tale motivo è giusto intervenire già in tenera età con iniziative di prevenzione e piani formativi e informativi destinati ai più piccoli. Questo è l'obiettivo del progetto denominato la città dei bambini, ideato dall'amministrazione comunale di Santa Giusta. L'interessante piano prevede la realizzazione di un quartiere urbano ridisegnato a misura di bambino in cui le strade e i percorsi ciclabili e pedonali dotati di segnaletica verticale e orizzontale vengono riproposti in un percorso del quale i bambini, a bordo dei piccoli veicoli elettrici, in bicicletta o a piedi, percorrono le vie, rispettando rigorosamente la segnaletica. In una sala debitamente attrezzata, esperti educatori insegneranno ai bambini le nozioni indispensabili per accedere al percorso, seguendo e rispettando le indicazioni stradali, come il riconoscimento delle indicazioni semaforiche e dei segnali di pericolo, mentre a chi percorrerà i percorsi pedonali saranno insegnati i doveri dei pedoni. Sarà Abba Noa a gestire l'area PIP di Cabras. Con un investimento da parte dell'ente saranno sistemate le fogne e gli allacci idrici. Sentiamo il servizio. Dopo l'accordo preso dal comune di Cabras con Egas e Abba Noa per cercare di appianare il grosso debito con gli enti gestori delle acque, pare che la situazione stia lentamente prendendo una giusta piega. Nei giorni scorsi si è infatti concluso l'iter di trasferimento della rete idrica e fognaria dell'area PIP di Cabras sotto la gestione di Abba Noa. Non sarà più il comune, pertanto, a gestire le utenze presenti. L'atto, in linea con la normativa vigente, è stato sottoscritto da Egas in qualità di regolatore del servizio idrico regionale, Abba Noa in qualità di gestore del servizio e dal comune di Cabras, proprietario delle infrastrutture. Tale passaggio è stato preceduto da una valutazione dello stato di consistenza delle opere che ha portato alla redazione da parte di Abba Noa di un piano di adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture. L'investimento da parte dell'ente sarà pari a 105 mila euro. Tra le attività previste, spiega Renzo Ponti, presidente del Comitato Istituzionale dell'Ambito di Egas, ci sono il rifacimento di una cinquantina di allacci idrici e di altrettanti allacci fognari, la ricerca e la riparazione di eventuali perdite occulte. Le opere saranno inserite nel piano di interventi finanziati con fondi da tariffa per il 2019, chiarisce ancora Ponti, questo significa che dovranno realizzarsi nel corso di questa annualità, con vantaggi immediati dal punto di vista infrastrutturale per le imprese che operano nell'area. In serata era previsto un incontro del sindaco Abis con gli utenti dell'area PIP. L'ente di governo d'ambito della Sardegna, Egas, ricorda la scadenza fissata per il 20 gennaio 2019 dei termini per il bonus idrico 2017, che prevede i tagli alle bollette dell'acqua per i residenti nei comuni sardi gestiti dalla società Abanoa. Possono farne richiesta agli utenti con reddito ISEE fino ai 20.000 euro in possesso di fatture pagate o non pagate relative ai consumi del 2017. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai comuni oppure sul sito egas.sardegna.it. Sono stati ricevuti dagli uffici della Regione i vincitori del secondo bando del progetto Terra ai Giovani, dove la Giunta ha concesso in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta, 15 lotti di terre incolte o inutilizzate da affidare agli imprenditori agricoli Under 40 della Sardegna. Sentiamo. Pensare all'agricoltura, alla natura, per pensare ai ragazzi, alle future generazioni, si sono presentati nei giorni scorsi negli uffici della Regione i vincitori del secondo bando del progetto denominato Terra ai Giovani, in cui la Giunta ha deciso di affidare agli Under 41 in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabile una sola volta, ben 15 lotti di proprietà regionali incolte o abbandonate per un totale di circa 650 ettari. Anche Arborea, Marubiu, Palmas Arborea, Serramanna, tra i territori coinvolti dal bando regionale. Per questo secondo bando erano pervenute negli uffici dell'Agenzia Alla Ore 240 richieste, il doppio rispetto alla prima edizione del 2016, quando le domande furono 128. Abbiamo selezionato terre non utilizzate da nessuno, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria, un modo per aprire spiragli per i nostri ragazzi che invece di andare via dall'isola possono avere una prospettiva nel settore dell'agricoltura produttiva, di precisione e culturale. La Regione ha bloccato il progetto per il termodinamico di San Quirico, mettendo d'accordo così differenti forze politiche. Vediamo il servizio. Lo stop al progetto di San Quirico ad Oristano è una buona notizia che mette d'accordo tutte le forze politiche. Giungono comunicate di soddisfazione per il risultato raggiunto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle perché la realizzazione dell'impianto termodinamico non avrebbe portato alcun beneficio ai sardi, dicono, sia in termini di costo dell'energia che in termini occupazionali, con effetti negativi per il consumo del territorio agricolo, ma anche di immagine per un territorio ad evidente vocazione agricola. I parlamentari Emiliano Fenu, Lucia Scano e Luciano Cadeddu dichiarano che si è evitato di realizzare una vera e propria cattedrale nel deserto contro la volontà espressa in tutte le sedi istituzionali da parte delle comunità interessate, degli enti locali e di tutti i comuni guidati da amministrazione di qualsiasi parte politica. Il diniego opposto dalla Regione contro il progetto nelle campagne di San Quirico permette al territorio interessato di tirare un sospiro di sollievo, ma non deve far abbassare la guardia, ha quindi dichiarato il capogruppo dei riformatori sardi per l'Europa in Consiglio regionale Attilio Dedoni. Per questa volta possiamo dirci fortunati, ma in futuro la sorte potrebbe non essere altrettanto favorevole per la Sardegna. È pertanto indispensabile, ha aggiunto Dedoni, che nella prossima legislatura si metta mano alla normativa in materia, affinché sia chiarito una volta per tutte che gli impianti di produzione energetica con finalità commerciali possano essere installati solamente nelle aree industriali e che in quelle rurali debbano essere ammessi solo quelli destinati all'autoproduzione da parte delle aziende agricole. Servono regole chiare che non consentano margini di discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni, soprattutto da parte della Regione, conclude il capogruppo. D'ora in poi i pastori sardi dovranno pagare un ticket di 25 euro. I dettagli nel servizio. La Giunta regionale ha deciso. I pastori sardi dovranno pagare un ticket per ogni animale movimentato fuori dall'isola. A darne notizie è stato il parlamentare oristanese del Movimento 5 Stelle Luciano Cadedu, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Il ticket che viene richiesto è di 25 euro, una somma che di fatto rendevano ogni ricavo se si pensa che la vendita di una pecora oggi spunti un prezzo di massimo 70-80 euro, un costo di cui si dovrebbe fare carico la struttura sanitaria e la Regione. Sino allo scorso anno ad allevatori e pastori non veniva richiesto tale pagamento, ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle. Informerò subito il Ministro della Salute Giulia Grillo chiedendo un suo intervento perché si possa trovare una soluzione al problema. 8 racconti ambientati in un contesto socioculturale oristanese. Si tratta di racconti di terra e di laguna, il libro scritto da Nando Cossu che verrà presentato venerdì 18 gennaio alle ore 17 presso il Centro Servizi Culturali Unla di Oristano. Dialogheranno con l'autore Silvana Cintorino e Marcello Marras. Era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese. Grazie. Grazie. Grazie.